Oggi è venerdì 4 ottobre, siamo sulla spiaggia dei Disposi, il decimo municipio. Oggi ci sarà la prima cerimonia, la cerimonia mi verrà appunto celebrato qua in riva al mare. Oh che bello oggi, una bellissima giornata di sole, noi siamo venuti apposta da Milano, siamo gli amici di Loreto, lo sposo e quindi eccoci qua insomma a godere di questo. È il primo matrimonio sulla spiaggia del mare di Roma, è importante. L'abbiamo letto ieri sui social. I signori testimoni hanno udito la risposta affermativa dei Disposi? Hai sentito? Hai sentito? Allora In nome della legge vi dichiaro uniti in matrimonio. In nome della legge vi dichiaro uniti in matrimonio. L'anno 2019, a D4 del mese di ottobre, alle ore 11 e minuti 2 in Roma, nella casa comunale lungomare Paolo Poscanelli 180, spiaggia degli Sposi. In una sala portabili, davanti a me, che ero venuto Enrico, ufficiale dello Stato civile di Roma Capitale, per delegazione avuta, vestito in forma ufficiale, sono presento personalmente comparsi. Ora e le ore 12, praticamente un'ora dopo la cerimonia sono arrivate le piante. Sono felice di essere qui a vedere questo patrimonio della mia più cara amica. Grazie. Sono contenti di questa cerimonia? Che dica di cosa si sente? Molto, poi la giornata è stata meravigliosa, si ha regalato dei colori splendidi, bello. E' l'emozione. Grazie, auguroni. Grazie.